Una bellissima campagna interna, tante emozioni ma anche tanta energia, tanto entusiasmo che raccogliamo in tutte le vie e le piazze che stiamo vivendo di questa bellissima regione. Sicuramente c'è voglia di cambiamento, un voto per i Lucani per liberare la Basilicata da coloro che hanno venduto e svenduto il territorio. Non è un voto né di destra né di sinistra, è un voto per il cambiamento, un voto che dice no all'autonomia differenziata, che dice no alla cattiva gestione sanitaria e che dice sì all'amore di questa terra, alla difesa del territorio per una nuova primavera.